Il Sud Italia specializzato nel settore outdoor per abbigliamento, calzature e accessori tecnici. Prima che il negoziante, Sergio, il proprietario, ragazzo tra l'altro è veramente simpatico, è uno sportivo, è un praticante a sito della montagna e dall'unione del suo nome e del verbo volare è proprio nata questa esperienza, è così bella, servolare. Il messaggio che Sergio vuole dare è proprio questo, è quello della libertà, della felicità, della voglia di andare sempre oltre e così con questa grinta ha creato questo marchio che poi è diventato associazione sportiva e quindi in negozio. E devo dirvi che in questi 17 anni di attività, grazie alla sua esperienza, non manca mai di dare il consiglio tecnico giusto ai tanti amici che lo vanno a trovare in negozio. Il motto di Sergio e dello staff è bellissimo, la passione al primo posto. Ecco, questa passione gli ha permesso di raggiungere importanti traguardi, diventando con il suo negozio punto di riferimento per professionisti e amanti della montagna, del trekking, dello sci, dell'alpinismo, dell'arrampicata, ma anche del canyoning e della speleologia. Insomma, affrontare ogni attività di outdoor con il giusto equipaggiamento, ma anche con un occhio alla bellezza, significa ovviamente anche andare in tutta sicurezza con il look assolutamente giusto e con il massimo comfort. Insomma, è la prima volta che qui a Tena Glamour, lo accogliamo con un grande applauso, è il momento di cominciare con Servolare, la passione, al primo posto. Divertitevi! Grazie! 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 Anche l'effetto neve, grazie a Servolare, bellissima prima passerella di Etna Glamour 2018, grazie ovviamente a tutti. Dov'è Sergio? Eccolo qui, mi metto accanto a Sergio perché sono molto contento. Intanto Sergio di darvi il benvenuto a Etna Glamour, è la prima volta che siete presenti, io mi auguro che sia la prima di una lunga serie di partecipazioni e anche perché dobbiamo dire che comunque ormai l'outdoor non solo va di moda ma per fortuna intelligentemente prende sempre più piede e voi siete la dimostrazione in tutto il sud Italia, non solo qui a Nicolosi, che quando si riesce ad associare comunque un bel look, con il comfort e la sicurezza il gioco è fatto. Esatto, si può andare ovunque e ben vestiti. E bene, comunque ben vestiti, con grande sicurezza. Allora vogliamo consegnarvi, come facciamo ogni anno, un ricordo di questa serata e a consegnarvelo chiamo l'assessore Ugo Marletta che accogliamo ovviamente con un applauso. Sarà Ugo Marletta a consegnare, vi chiedo di venire tutti al centro del palco così da riuscire anche a dare una migliore visione a tutti gli amici del pubblico. Sarà Ugo Marletta a consegnare il primo. Ecco qui, benvenuto Ugo, buonasera. Mettiamoci pure al centro, consegniamo a servolare con l'applauso del pubblico di Nicolosi un modo per dirvi grazie.